Il Comitato per un quartiere migliore a Paolo VI prepara la manifestazione del 19 di ottobre dinanzi alla sede ASL in Viale Virgilio. Nel frattempo viene fatto il punto su quelli che sono stati gli impegni dal punto di vista politico per quel che riguarda l'ospedale Moscati e quanto ci si attende per la speranza riguardante la riapertura del pronto soccorso del nosocomio ionico. Massimo Cassano, Giuseppe Di Polito, Maurizio Morrone. Dovrebbero fare anche asfalto nuovo, marciapiedi, serpaglie, tutte queste cose qua. Però la seconda cosa che diciamo, l'altro obiettivo, una riapertura del pronto soccorso perché non è giusto che qui a Tarno l'unico pronto soccorso è il Santissimo Annunziato. Il Presidente Emiliano ha rossi di darsi una mossa perché la gente è stanca, anche i dipendenti, i poveri dipendenti che sono stressati e affollati anche per il loro lavoro che fanno. Qui al Moscati ci hanno chiuso anche una cardiologia, dalla cardiologia un laboratorio di analisi che fa come orario di ufficio dalle 7 alle 19.30, una radiologia lo stesso dalle 7 alle 19.30. Cioè quello che dico io ai cittadini anche, ribelliamoci. Vorrei ringraziare in primis Renato Perrini, Cosimo Borraccini, Ludovico Vico e il sindaco di Satte. Con la salute non si scherza. Il giorno 19 ottobre dalle 10 alle 12 ci troveremo davanti all'Asl per manifestare la problematica di apertura del pronto soccorso. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto con la pubblica illuminazione dell'ospedale. Adesso andremo avanti per il secondo obiettivo che è per la riapertura del pronto soccorso del Moscati. Grazie a tutti. Parще un imaggio passato. Grazie a tutti.